Un anno fa moriva Gianluca Vialli per una malattia grave al pancreas, come sapete tutti quanti. Allora oggi, nel giorno della commemorazione, a distanza di un anno, voglio fare questo video semplicemente per ridare le condoglianze e un abbraccio mediatico alla sua famiglia. Però, regà, vi voglio dire una cosa fondamentale, importantissima. Qua, su questi social, si fanno video tutti i giorni per ricordare sportivi, gente famosa, gente importante, che è morta, che non ci sa più. E per carità, non voglio dire niente a sto ragazzo, perché a 50 anni non si può andare al mondo. Però, vi voglio far capire che, oltre a loro, c'è stanno milioni di persone che ogni giorno muoiono. C'è stanno i familiari nostri, c'è stanno i parenti nostri, c'è stanno amici, c'è stanno colleghi, c'è stanno fratelli, c'è stanno mamma e papà. Quindi, regà, è giusto ricordare a sto ragazzo, però ricordiamo pure di tutte quelle persone sconosciute, tra virgolette, che non sono sconosciute, perché le famiglie proprie non sono sconosciute, sono persone molto importanti. Ricordiamo pure quelli là, ricordiamo tutti. Non fanno soli i video per pià, due like di merda, e due mi piace, e due commenti, e due condivisioni, e netto di mozzarella, come dico sempre io, capito? Comunque, riposa in pace, Vialli e tutte le persone che ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, si spengono e malattie incurabili. E il Devil vi saluta. Don't let it be, just stop.